Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlogging! Qui possiamo vedere una piccola amazing, sì, carissimi bambini, come vedete tutto è tornato alla normalità per fortuna, Maisie è proprio una mamma attenta e scrupolosa e non lascia i suoi gattini mai, come vedete li abbraccia, anche prima quando sono venuta su senza telefono stava abbracciando quello di bianco e nero e fa una tenerezza infinita perché cioè sembra proprio che lo abbraccia, capito? Poi c'erano qua i cani che sono venuti a salutarla, lei era un po' sull'attenti per vedere insomma quello che stava succedendo e boh! Vero Minnie, bellissima, fantastica! Adesso ti lascio in pace, ok? Io scendo giù che vado a fare colazione e vado a creare la lista di stamattina ovviamente non è che la faccio tutti i giorni magari ci sono giorni in cui sono in casa di più e quindi magari la faccio più spesso quindi magari anche tutti i giorni poi c'è un giorno invece magari super frenetico dove magari non faccio neanche colazione e magari la lista non me la faccio neanche o magari non inserisco tutte le cose nella lista tipo ieri ci sarebbe stato da inserire e di portare mesi dal veterinario ma non l'ho scritto perché non c'era quasi più spazio quindi diciamo che è una lista un po' così, no? giusto per avere un po' un'idea poi ci sono appunto giornate magari proprio frenetiche dove non assolutamente magari non la faccio comunque adesso lasciamo in pace i mesi e i suoi micetti e iniziamo un po' la giornata a fare faccende, a fare cose a editare video e a parlarvi finalmente di questo meraviglioso prodotto che mi è stato inviato dall'azienda Beers Benefit e sono degli orsettini gommosi formulati specificatamente per alcune esigenze che abbiamo perdita dei capelli, brucia grassi, focus mentale, multivitaminico per bambini insomma per tantissime tantissime cose infatti c'è una vastissima scelta per ogni esigenza ed è veramente, sono veramente adatti a tutti perché sono anche vegani, vegetariani sono senza glutine, senza zuccheri e hanno ovviamente dei gusti anche buoni in modo da invogliare anche i bambini piuttosto che gli adulti ad assumerli con un po' più di piacere, no? ovviamente più la cosa che andiamo a prendere che andiamo ad assumere ha un buon gusto più contenti siamo ma vediamoli nello specifico e iniziamo da questi qui che io ho preso per Pia sappiamo che durante la stagione invernale la stagione fredda il corpo ha bisogno di un maggiore apporto di vitamine e questi orsetti sono formulati da tutte le vitamine essenziali giornaliere che servono per i bambini vitamina B6, B12, B2, C, K2, E, D e la biotina, zinco e iodio sono appunto vegani senza zuccheri e aroma naturale di lampone passiamo adesso a questi qui questi sono quelli che ho preso invece per me uno dei due e sono questi qua, focus questi qua servono per aumentare la concentrazione per essere un po' più produttivi hanno anche alcune vitamine all'interno che aiutano alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento all'interno principalmente troviamo lo zinco che contribuisce al mantenimento di capelli, pelle e unghie normali e anche alla normale funzione cognitiva la vitamina B6 e B12 che contribuiscono alla normale funzione psicologica la niacina e la vitamina C che contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e poi c'è l'acido pantotenico che contribuisce a prestazioni mentali normali anche questi qua sono vegani senza zucchero e aroma naturale di lampone siccome li prendo io vi assicuro che il gusto è buonissimo e vanno presi come potete notare la dose giornaliera consigliata di due caramelle gommose al giorno io le sto prendendo già da un po' e mi sto trovando benissimo sento proprio la mia concentrazione aumentata e sento molto meno la stanchezza ovviamente con l'arrivo della primavera ci andava proprio qualcosa di rigenerante ma principalmente io l'ho fatto per proprio il focus mentale perché ho tantissime cose a cui pensare poi adesso stiamo arrivando alla fine della scuola quindi udienze eccetera eccetera varie gite vari corsi che devono fare e ho proprio bisogno di avere più focus di avere la mente più sveglia di essere più concentrata per appunto riuscire a mantenere il tutto più attivo e riuscire a star dietro a tutto quindi in questi qui devo dire li sto appunto provando io in prima persona e devo dire che sono veramente ottimi ve li consiglio assolutamente se state cercando qualcosa di questo tipo e passiamo agli ultimi anche questi qui li ho presi per me questi qui sono bruciagrassi vanno associati ovviamente a un'alimentazione sana e giusta e contengono biotina, zinco e cromo ed estratto di foglie di tè verde e appunto sappiamo tutti che il tè verde ha un effetto positivo sulla combustione dei grassi quindi l'hanno inserito apposta per aiutarci ad arrivare al nostro obiettivo inoltre contiene anche la L-leucina e si dice che l'aminoacido contribuisca alla salute del metabolismo riducendo il peso e la circonferenza della vita e mantenendo la massa muscolare questo è stato confermato da studi clinici quindi non è che sono cose così buttate al vento contiene anche altri ingredienti importanti però come appunto il cromo e la biotina che contribuiscono al normale metabolismo dei macronutrienti il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di zucchero nel sangue lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido base e al normale metabolismo degli acidi grassi anche questo qui è vegano e però ha un aroma naturale al limone infatti in confronto agli altri a mio gusto sono buoni comunque si fanno mangiare non è che non li mangi non sono buoni però insomma in confronto agli altri che sono a gusto lampone mi piacciono un po' di meno ma a parte il gusto anche qui ho notato una differenza proprio nella mia fisicità ovviamente va associato anche a movimento va associato appunto a una dieta sana e regolare e va associato anche a e poi ci sono appunto questi qua non è che prendendo questi si hanno delle magie però appunto messi tutti assieme aiutano a raggiungere il nostro obiettivo finale comunque anche questi qua li sto provando appunto io personalmente quindi a parte il gusto che lo metterei sul knee per il resto ve li consiglio mi sto trovando molto bene appunto ho notato delle differenze nel mio corpo quindi anche questi ve li consiglio assolutamente ma non è finita qui adesso vi dirò l'ultima cosa allora un'ultima cosa che vi voglio dire è che l'azienda ha a cuore il nostro benessere e quindi ha creato uno sconto appositamente per voi del 20% su tutti i prodotti presenti nel sito che vi lascerò qui sotto scritto 8Family20 lo troverete anche sotto nell'infobox dove troverete anche il link che se cliccherete vi porterà direttamente al sito e vi inserirà automaticamente nel carrello già il codice per lo sconto del 20% che si va ad accumulare con gli sconti già presenti sul sito quindi direi ottimo ve li consiglio perché mi sto trovando veramente molto molto bene e non lo dico appunto solamente perché mi sono stati inviati ma l'azienda proprio ha chiesto che io li provassi prima di parlarvene proprio per dare un giudizio reale quindi io vi garantisco che per quanto riguarda me perché anche Pia comunque sono monti vitaminici per evitare appunto l'ammalarsi per fortuna stiamo arrivando verso la primavera quindi diciamo che stiamo arrivando anche verso la fine forse dei malanni di stagione raffreddori eccetera ma questi altri che invece ho preso per me sono utili sempre perché comunque focus mentale comunque energia serve soprattutto appunto perché stiamo arrivando nella primavera il brucio grassi se una persona ha bisogno di bruciare grassi può essere un valido aiuto come dicevo prima insieme a un'alimentazione sana e allo sport detto questo io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo giornata andando ciao oggi ho creato la mia lista più o meno sono sempre uguali a parte qualche cosa da fare comunque adesso vado a cioè inizio a fare le varie cose a parte qualche cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dividere i vestiti stirati, fatto. Adesso attacchiamo una lavatrice. Dico sempre attacchiamo, ma poi in realtà lo faccio io. Vabbè, comunque c'è già il piumone dentro, perciò devo solamente andare a... Ma anche delicati, va bene. E uso il detersivo, quello per la lana. Non si è un mato. No. 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 Ok. Ok. Fatto. E adesso... Vabbè, adesso vado avanti. Sto andando a prendere Pia al polmè. Pia al polmè. Credo che forse lassù ci sarebbe della manutenzione da fare, perché mi sembra che sia cresciuta un po' troppo a erba. Allora, ecco qui il pranzo, per noi pasta con le fave, e invece per loro pasta e fagioli. Buon appetito a noi. Ciao. Allora, sono arrivate la mamma Giada, che hanno portato Max, e sono passate all'Eurospin a prendere del pesto, questo qui diciamo con glutine, ma in realtà non è con glutine. Comunque questo qui è per loro, e invece questo qui per me Maurizio e Gabriele. Questo qui però ha proprio la scritta, senza glutine, e invece su questo, almeno fino all'ultima volta, la scritta non c'era. Però... Ah no! Mauri! C'è la scritta anche su questo adesso! No, guardate! Ma no! Lo sai che hanno fatto un scaffale? Ottima! Aspetta, bene! Hanno fatto uno scaffale tutto per l'alba senza glutine. Ma quello l'avano già fatto? No! Nel pane? Non lo mettono nel pane! Ah, questo qui è... non lo sapevo! Bene, 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 bene! Costa 70 centesimi, meno, capite? Possiamo prendere una cosa sola per tutti quanti. Molto bene! Che bella scoperta! E poi hanno preso anche due buste di formaggio grattugiato, quello che prendiamo sempre, il ganapadano. Ma ci serviranno domani e dopodomani, quindi le teniamo in frigo, perché se no finisce subito e poi... E con questi tre bellissimi ragazzacci, come li chiama Lucrezia, siamo arrivati alla fine di questo video che vado a finire qualche giorno dopo, non il giorno stesso. Qui c'è Olivia! Ciao Olivia! Che ha iniziato il calore proprio oggi. Poi abbiamo Zack! Ciao Ficcolino! Ciao! Che bello questo Zacchino! E poi qui abbiamo Oggy! Ciao Oggy! Ciao Oggy! Che era sempre strisco! Ecco! E niente, con loro, con i loro musini, io vi saluto, vi ringrazio se avete guardato questo video fino a qui, vi mando un bacione grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!